Ciao e bentornato a una nuova puntata di Critico Digitale. Oggi mi è successo che mi hanno dato poco tempo. Capiterà anche te, no? Che ti ritrovi con dei periodi pienissimi, dei periodi in cui probabilmente dormire in ufficio è una delle opzioni. Ecco, questo è un periodo anche per me e la mia azienda. Siamo pieni di lavoro, ciò significa che abbiamo lavorato bene, ciò significa che abbiamo coltivato bene tutti i semi che abbiamo sparso nel corso degli anni. Ma se siamo così pieni, se ti sto parlando mentre fuori non è buio, di più è praticamente notte fonda, significa che abbiamo peccato in qualcos'altro. Perché far arrivare tutti i clienti, tutti insieme, contemporaneamente, anche se si è strutturati e noi magari in questo frangente stiamo scoprendo alcune falle nel nostro sistema, non è così facile, non è così facile da gestire. Non è possibile accettare troppi clienti tutti insieme. Ma allora, la domanda sorge spontanea, ma perché hai fatto tutto questo lavoro? Beh, perché dato che stiamo coltivando più ambiti, la possibilità che questi si trasformino in alcuni clienti, ci porta a pensare, ok, facciamo una cosa, intanto coltiviamo, poi quando saranno maturi arriveranno. Ovviamente, se però tutti questi arrivano insieme, il problema sussiste, eccoci qua. Quindi che cosa puoi fare per evitare questo che c'è appena successo, che a noi è appena successo in una parte, diciamo, ancora contenibile, ma non vorremmo che accadesse mai più e quindi ci stiamo lavorando sopra. Beh, per prima cosa, non pensare che le tue attività di marketing non portino a niente. Poi, qui ovviamente stiamo parlando di un'azienda che ha già delle attività di marketing in essere, però tu devi pensare anche al fatto che potresti avere delle attività di marketing involontarie. Cosa? Beh, ad esempio il passaparola, oppure hai appena fatto la nuova confezione per il caffè, oppure hai appena ristrutturato l'insegna fuori dal cappannone, oppure hai rifatto appena adesso la brochure, oppure per qualche motivo un tuo vecchio cliente si riattiva. E allora come fai? Come puoi sopperire a queste problematiche? Semplice, non si può, non si può perché di fatti la tua attività non è sicuramente un pendolo che ha un'oscillazione ben precisa e che puoi misurare con estrema certezza. Puoi soltanto cercare di organizzarti per non trovarti in situazioni di pericolo in cui il tuo nome, il tuo brand e la tua azienda sono messe in difficoltà dall'arrivo di troppi clienti. Allora, cosa devi fare per stare tranquillo? Per prima cosa devi cercare di comprendere il percorso tipico del tuo cliente all'interno della tua azienda. Ti faccio un esempio. Noi quando realizziamo una nuova strategia per un'azienda partiamo e abbiamo già un nostro modus operandi. Sicuramente una delle cose che viene fatta per i nuovi clienti, adesso stiamo parlando di questi, per i nuovi clienti è quello che noi chiamiamo l'interrogatorio. L'interrogatorio non è altro che una call, ma io non la chiamerei così assolutamente perché io preferisco andare di persona. Un incontro con il cliente in cui lo stesso cliente si mette a nostra disposizione per uno o due giorni, dipende di che genere di attività parliamo, se è molto nuova rispetto a quelle che trattiamo solitamente, ma proviamo a non trovarci neanche in questa situazione, ma se lo è magari occorrono due giorni. Ma che cosa facciamo in due giorni di attività? Beh, in due giorni di attività affianchiamo i vari reparti dell'azienda e cerchiamo di capire che cosa fanno, come lavorano, con chi parlano, come si relazionano, come parlano tra di loro, come si scambiano le informazioni. Tutte queste cose che magari non sono direttamente legate alla strategia di marketing, perché se tu pensi che il marketing sia soltanto la creazione di una pubblicità per avere più clienti, beh, ti sbagli. E' la creazione di un sistema per automatizzare l'acquisto, per automatizzare l'arrivo di nuovi clienti, renderli il più remunerativi possibili e gestirli per farli tornare ancora e ancora e ancora. Questa è una strategia di marketing completa, ovviamente te l'ho iper semplificata. Bene, per fare questo devo capire come li gestisci, perché se noi facciamo entrare un nuovo cliente e poi facciamo entrare un nuovo cliente per il nostro cliente, quindi per te, mettiamo caso che sei tu, se ti facciamo entrare un nuovo cliente e tu non sei strutturato, oppure notiamo che, non lo so, chi ti deve fare il preventivo per la commessa tal dei tali, ci mette 4 giorni e in quel caso lì perdete la commessa, Bene, è inutile continuare a spingere sull'acquisizione se non si sistemano, ad esempio, la preventivazione o l'archiviazione o la raccolta di dati, la raccolta di lead. Ci sono tante attività che vengono fatte per far sì che la ruota giri. Ecco, quando facciamo questo primo passo, poi andiamo al secondo. Qual è il secondo passo che andiamo a fare dopo questo primo interrogatorio? Beh, il secondo passo è quello della strutturazione della strategia. Quindi ci ritroviamo, facciamo quello che altri chiamano brainstorming, noi proprio ci insultiamo, te lo dico apertamente, noi iniziamo a buttare giù delle idee, ma non in brainstorming, cioè andando a, come dire, avvelenarci l'uno con l'altro, con le idee dell'altro, perché poi vengono limitate. Noi proprio le buttiamo su carta e poi cerchiamo di ucciderci, cioè deve vincere un'idea sola, deve vincere un'idea ben precisa, che poi, che gli altri, insomma, dichiarano essere apertamente la migliore. Ecco, se quella è la migliore, poi insieme andiamo a fare il brainstorming su quella, insieme andiamo a svilupparla e insieme andiamo a proporla poi al cliente. Terzo passo è sicuramente quello dell'applicazione. Una volta decisa con il cliente, andiamo ad applicare questa strategia. E come si applica? Beh, si applica facendo ricorso al digitale. Possiamo creare un CRM per te, possiamo personalizzare quello che abbiamo, possiamo creare un sito web, possiamo creare una mailing list, possiamo creare una membership, possiamo tirare fuori i dati dal tuo vecchio CRM e riattivare i vecchi clienti. Insomma, possiamo fare tutte queste attività, andare a fare la ricerca clienti, insomma, possiamo farne tante attività, ma l'importante è che vengano fatte automatizzando dei passaggi. Quindi qui entra in gioco la sitenet dello sviluppo, la sitenet dei tool, perché il fatto che il marketing sia, come dire, adesso perpetuato e spinto attraverso dei tool, non ti deve far pensare che sia il sito internet in marketing. Il sito internet è soltanto l'oggetto, la cosa, l'automatismo, il codice con cui tu sviluppi la strategia. Quindi in realtà tu devi pensarla come un grimaldello, che in quel caso può andare bene, ma non è detto che la strategia rimanga identica, ma un domani non sia più un sito web che ti porta i clienti, ma magari sia un account Instagram, oppure sia un account Facebook, oppure sia una mailing list, oppure sia una vecchia fiera di quelle che si facevano una volta, che noi continuiamo a fare, non personalmente, ma per i nostri clienti. Quindi tu devi pensare che la strategia viene fatta sopra. Ma perché mi parli di questo, Justin? Tu mi stavi parlando del fatto che siete in difficoltà. Sì, siamo in difficoltà, ed è vero. Questo è accaduto perché, dato che le strategie applicate poi portano clienti, quello che avevamo sottovalutato è il fatto che un cliente con noi poi ci chiede nuove cose da applicare. Perché, infatti, adesso sembra molto chiaro, il fatto che il marketing ti possa aiutare nella costruzione di un business automatizzato non deve farti pensare che non lavori più. Potresti lavorare molto di più. Questo ci sta accadendo a noi. Sta accadendo che i clienti positivamente presi o comunque con un risultato positivo ci chiedono di lavorare ancora. E il fatto che la macchina della nostra creazione, generazione di nuovi clienti non sia mai ferma ha creato una sovrapposizione ai clienti. Justin, ma non ci avevi pensato che un tuo cliente potesse continuare? Assolutamente sì. Ma per una serie di motivazioni alcuni dei nostri canali che erano del tutto morti e ti faccio un esempio, cioè i canali, ad esempio, quelli più istituzionali con cui lavoriamo più spesso, lavoriamo con CNA, lavoriamo con l'Università Politecnica delle Marche, lavoriamo con Unicam, lavoriamo anche con delle agenzie interinali con cui facciamo dei progetti. Insomma, ci ritroviamo a lavorare con tante entità diverse a collaborare più che a lavorare, a collaborare con queste entità diverse. Ecco, questi qua si sono attivamente, contemporaneamente attivati tutti insieme. Ci siamo ritrovati in difficoltà, ma fortunatamente nel corso degli anni abbiamo mantenuto dei buonissimi rapporti con altre aziende. Cosa abbiamo fatto allora in questo momento? In questo momento abbiamo preso risorse da altri. Ecco, abbiamo avuto l'intelligenza, l'unica che ci abbiamo avuto, perché in questo momento sono abbastanza arrabbiato per la situazione in cui ci troviamo. Insomma, lavorare così tanto fa piacere, ma ti mette anche in difficoltà, sotto pressione, hai la possibilità di sbagliare, di non fare qualitativamente quello che la gente si aspetta. Diciamocelo, chiunque, tu, io, se fai un lavoro duro e poi non viene bene, ti incavoli anche tu. Ok, adesso come adesso, la situazione è questa. Quindi abbiamo preso risorse da altre, avevamo intelligentemente creato dei cuscinetti. E tra un grafico che adesso praticamente è come se fosse assunto da noi, tra un programmatore che da freelance si è messo seduto di fianco a noi, abbiamo attappato questa enorme problematica dei troppi clienti. Tu hai mai pensato come potresti gestire troppi clienti? Hai mai pensato che anche con lo stesso numero di clienti potresti gestirli molto più facilmente attraverso degli automatismi? Ti sei mai messo a fianco a un tuo collega per vedere come lavora? Perché magari facendolo tutti i giorni non si rende conto delle cose ripetitive che fa oppure non si rende conto che l'attività che fa è a ritorno zero? Perché accade anche questo incredibilmente. Molte attività che facciamo nel corso degli anni possono diventare semplicemente una routine e non avere nessun vantaggio né da un punto di vista operativo. Allora faccio l'Excel con questo ma poi nessuno lo legge. Allora formato questo ma nessuno lo guarda. Ma allora poi mi metto a chiamare i vecchi clienti che erano attivi ma poi nessuno gli fa il preventivo. Ecco, magari ci sono molte attività che ti stanno portando via tempo e non serve neanche che tu abbia un ingresso troppo grande per metterti in difficoltà. Magari sei in difficoltà già adesso. Magari il tuo tempo già lo senti limitato. Bene, allora inizia a pensare se c'è un'attività all'interno della tua azienda che stai portando avanti senza una reale utilità. se c'è un'attività come questa ti invito a pensare di eliminarla e a vedere se qualcuno nota la differenza. Una puntata sicuramente in cui mi sono esposto molto. Mi piace l'idea di non nasconderti la verità perché se ascolti altre trasmissioni troverai che sono sempre tutti incrementativi, performanti, non sbagliano mai. Io sono dell'opinione che la verità vince sempre e che la trasparenza è una di quelle cose che salvano continuamente aziende e anche la nostra azienda perché tu conta che quest'oggi io ho fatto il mio primo preventivo a 180 giorni. 180 giorni sono 6 mesi sono un'enormità nel digitale. So che molte persone non accetterebbero una cosa del genere i nostri clienti sono disposti pur di continuare a lavorare con noi di accettarlo questo ci piace molto ma stiamo già lavorando sul nuovo nostro sistema perché non si può arrivare in una situazione del genere noi stessi stiamo esaminando passo passo dove siamo più carenti dove siamo troppo lenti dove facciamo un lavoro che magari non ha un'utilità o dove possiamo migliorare ovviamente non è detto che non ci serva un ingresso in azienda ma questo è ancora più performante se tutta la macchina gira perfettamente quindi primo passo da fare prima di ancora di trovare una persona che per quanto formata prima che lavori come lavoriamo noi avrà bisogno di tempo dobbiamo sistemare il meccanismo nel frattempo beh riempiamo i polmoni con un bel respirone e ci buttiamo in acqua se hai ascoltato questa puntata so che l'audio sta leggermente migliorando ma ti voglio chiedere una cosa se vuoi trasformare questa trasmissione in un qualcosa di più in un qualcosa di più ragionato e non solo in un flusso che arriva dalle esperienze giornalieri adesso ti sto registrando e ho fatto questa puntata che era del tutto fuori contesto perché ho pensato chissà in quanti sono nella mia stessa condizione in chissà in quanti hanno questa problematica oggi chissà in quanti si stanno fermando a pensare a come risolverla ecco allora ho voluto fare una puntata così estemporanea in cui mettevo nero su bianco parlato su bobina quello che era la mia idea su come risolvere quale sia il primo passo da fare ecco se vuoi però aiutare la mia trasmissione la tua trasmissione magari preferita critico digitale ecco fai una recensione su itunes a raggiungimento le 20 recensioni prometto che varierò la modalità con cui registro le puntate magari con un audio migliore magari con una scaletta migliore magari con una struttura migliore magari aggiungerò dei stavo pensando se l'audio potesse andare bene così potrei aggiungere degli altri formati magari anche un testo magari anche un video sto pensando sto pensando adesso è in fase beta se vuoi aiutarmi a uscire da questa fase beh lascia una recensione e poi condividi con dei tuoi amici magari hai un tuo collega che vedi in difficoltà un tuo amico ha un'azienda in cui ogni volta che gli dici di uscire il sabato sera ah no ma sai devo finire del lavoro arretrato ecco lasciagli il link a questa puntata così che lui non si senta male perché sente qualcuno che sta peggio di lui magari e prenda spunto ci pensi gli venga la scintilla come mi hanno detto anche oggi che in alcune occasioni faccio venire la scintilla e ne sono onorato di come risolvere questa situazione se vuoi scrivermi telegram.me slash Justin Rosati trovi il link in descrizione telegram.me slash Justin Rosati se il nome è troppo complesso e non riesci a raggiungerlo e non hai modo di cliccare il link che trovi nelle note www.criticodigitale.it www.criticodigitale.it ti porterà al mio profilo LinkedIn o al sito futuro se stai ascoltando questa puntata dopo molto e lì troverai sicuramente i contatti grazie e alla prossima puntata www.criticodigitale.it guide, storie e idee per gli imprenditori che vogliono capire come usare il digitale per far nascere e crescere il loro business a cura di Justin Rosati